...asforossi, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua! E già sembrava la fine del mondo, ma noi siamo ancora qua! E si arrivi nei... Siamo! Siamo! Hanno dato una grande dimostrazione. Una grande partita. Lo sapevamo noi, che non era finita. Ce lo dicevamo, ce lo siamo detti anche in questi giorni. Domenica saremo ancora qui. Rimini è una delle più belle città del mondo. Soprattutto quando resti. Soprattutto quando resti qui e quando i nostri tifosi torneranno qui. Perché, ripeto, con loro è tutta un'altra roba. Stasera siamo stati Roseto, siamo stati Roseto. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto tanto e non abbiamo fatto niente. però siamo molto leggeri. Abbiamo ritrovato la nostra Roseto. Veniamo bene. Siamo molto fiduciosi.